Ti ho detto che volevo un futuro con te e dicevo davvero, ma Katie stava rendendo la mia vita assolutamente invivibile. Quindi se sono stato costretto a prendere certe decisioni in modo tale da assicurarmi un futuro con te, non ci ho pensato un attimo. Tu mi hai guardata dritta negli occhi e mi hai detto che mi volevi lasciare per tornare da Katie e le hai detto che avresti passato il resto della tua vita con lei e gliel'hai fatto credere, sei stato molto bravo. Come Bill, come hai potuto fare una cosa del genere? Perché non vuoi ascoltarmi, l'ho fatto per noi due.